buonasera buonasera le forze dell'ordine buonasera sia tranquillo è solo un controllo restiamo pochi minuti mi scusi mi scusi siamo carabinieri dei nas nucleo antisofisticazioni ora facciamo qualche controllo lei indossa i guanti la cuffia vestiti adeguati alla cucina di un ristorante bene bravo ora vediamo se la cucina è a posto degli alimenti sono conservati bene per la sua sicurezza e per la sicurezza dei suoi clienti sì certo prego controllate pure tutto questa è la pasta poi deve lievitare lo vedo ma lei non è italiana no sono nata in nigeria sono nigeriana può fare il carabiniere perché sono una donna o perché sono nigeriana ecco io certo ormai paulina la cittadinanza italiana quindi può fare anche il carabiniere proprio come me la passata di pomodoro è un ingrediente fondamentale per la pizza margherita sì ma ci vogliono anche la mozzarella e qualche foglia di basilico e poi l'olio io uso solo extravergine di oliva biologico e poi un segreto legale o un segreto legale le scadenze dobbiamo controllare bene le scadenze questa passata di pomodoro la ci sono molte bottiglie bene scade tra un anno ma che fa ne apre un'altra bottiglia no allora le mozzarella controllate le mozzarella queste sono poche è questo il suo segreto lei prepara la pizza margherita sul suo grembiule le Grazie a tutti.